Amici del software libero open source benvenuti e bentornati in questa 87esima puntata del podcast di marcos box con le ultime notizie della settimana appena trascorsa bene bene sono passati quasi 15 giorni dalla precedente puntata ma sapere bene qual è la politica aziendale non registro la puntata se non ci sono abbastanza argomenti per di cui discutere di cui di cui intrattenervi diciamo così passiamo adesso alla prima notizia di questa puntata che riguarda vender vender sapete bene che negli ultimi anni sta riscuotendo un enorme successo da parte del sotto punto di vista finanziario perché sempre più big del mondo dell'informatica hanno deciso di finanziare lo sviluppo di questo software che praticamente fa praticamente tutto ed è uno dei software open source più conosciuti e più apprezzati bene l'ultimo big del mondo dell'informatica che ha deciso di investire in blender e facebook che entrerà fa parte del fondo di sviluppo della blender foundation come patron aziendale a partire dal quarto trimestre 2020 quindi tante belle cose per blender che veramente e sta diventando una macchina per acchiappare soldi c'è stato anche il rilascio della nuova versione di blender questa settimana che giunge alla versione 2.91 questa quarta release del 2020 va a migliorare ulteriormente l'esperienza utente aggiungendo miglioramenti nel sistema booleano miglioramenti nella funzionalità di monitorazione dei tessuti con il supporto ad esempio alle collisioni modificatori di oggetti di volume contorni e miglioramenti degli strumenti di animazione se volete leggere il change log completo vi invito a recarli sul sito ufficiale di blender o passare da marcos box dove trovate il link trovate anche un video dove vengono mostrate tutte le ultime novità di blender 2.91 quindi è fatto bene andate io a vedere avete fatto gli auguri di buon compreanno a gimp lo scorso 22 novembre c'è stato infatti il compreanno di gimp che ha compiuto ben 25 anni di sviluppo sembrava ieri quando il software è stato lanciato gimp adesso è sulla bocca di tutti ed è uno dei anzi è la vera unica alternativa open source a photoshop il software è apprezzato da tutti noi utenti linux perché praticamente ciò lo ritroviamo preinstallato su quasi tutte le distribuzioni linux ma anche in ambito windows io ad esempio installo gimp da sempre su tutti quanti computer windows su cui ci metto le mani quindi c'ho questa specie di mania dovrei farmi curare io ogni volta che vedo un computer sprovvisto di gimp devo andare lì a installarlo e devo andare anche lì a costringere le persone a utilizzare gimp perché perché è un software che è abbastanza semplice da utilizzare perché non è non è di tutta questa grande difficoltà è open source ed è più che ottimo per la stragrande maggioranza dei lavori che noi possiamo fare per quanto riguarda la grafica sui nostri computer quindi tiratina d'orecchia tutta quella gente che va a craccare photoshop per fare giusto due due fesserie di ritocchi in croce quando può farvi benissimamente con gimp gimp basta che avanza anzi magari vi lascio anche in calce un canale youtube che segue lo sviluppo di gimp e che pubblica tutorial e quant'altro quindi gimp è anche capace di essere un software apprezzato nel mondo del nel mondo windows e nel mondo professionale bene comunque buon compagno gimp e altri cento di questi giorni vivaldi oltre ad essere stato un compositore violinista italiano considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale è anche un browser web molti di voi conosceranno di certo vivaldi si tratta di un browser web basato su chromium non open source che è nato diciamo così dalla mente di dell'ex ceo e cofondatore di opera ho avuto in passato nel contatto 2015 anche il piacere di intervistare il team che sviluppa vivaldi e nell'intervista si parlò dei piani futuri di questo software che ricordo adesso è attualmente basato sul chromium è disponibile su qualsiasi su tutti i principali sistemi operativi quindi windows mac os linux è anche disponibile su android ed offre una serie di caratteristiche davvero interessanti che lo distinguono dagli archi browser basati su chromium adesso sta per raggiungere una nuova funzionalità che questa nuova funzionalità in realtà è una funzionalità che era in tempo era presente su sui browser web ma che via via è scomparsa perché gli sviluppatori di browser web si sono concentrati soltanto sulla navigazione rimuovendo tutto e tra virgolette il superfluo comunque nell'ultima tecnica del preview appena rilasciata è stato aggiunto vivaldi mail che è un client di posta elettronica che è completamente integrato all'interno del browser i client vivaldi mail si compone di tre componenti il client di posta elettronica vero e proprio vivaldi mail un lettore di feed vivaldi feed reader è un calendario vivaldi calendar andatevi a vedere su marcos box l'articolo che ho pubblicato che illustra tutte le varie funzionalità di vivaldi mail di tutta la suite di vivaldi mail e se siete interessati a provarlo su marcos box trovate le istruzioni su come abilitare l'opzione per l'opzione sperimentale che vi consente di abilitare vivaldi mail all'interno del browser fateci un pensierino perché merita davvero una prova questa settimana c'è stato il rilascio della seconda pre-release di xfce 4.16 il rilascio di xfce in forma stabile si avvicina dunque se tutto andrà bene verrà pubblicato entro la fine del 2020 di quest'anno invasione aliene tirannosari e quant'altro permettendo questa nuova versione porta nuove icone la disabilitazione del supporto new power per impostazione predefinita una migliore esperienza utente per quanto accorge nelle finestre di dialogo nelle impostazioni e miglioramenti vari nel pannello di xfce su marcos box trovate maggiori informazioni e come sempre trovate il link al changelog completo per andarvi a dare una lettura approfondita fra poco ne vedremo delle belle sul dpin 20.1 il team di dpin linux ha pubblicato la roadmap delle prossime versioni della distribuzione e leggendo la lista delle novità che ci aspettano nelle prossime versioni è possibile scorgere una interessante e a tratti controversa novità in arrivo entro la fine dell'anno controverso perché alcuni hanno già iniziato a storcere un po il naso perché c'è sempre il solito discorso dpin software cinese spia bla 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 che è stato ampiamente dimostrato che non era corretto e tant'è vero che dpin desktop environment viene comunque provinato all'interno del riposito neanche degli altri distribuzioni ma vabbè la gente ormai si è fissata con questa cosa comunque che cosa accadrà il 31 dicembre del 2020 anche questo alla fine degli anni si sono concentrati tutti quanti il rilascio entro la fine dell'anno non ho capito perché vogliono forse vogliono farci dare una gioia alla fine di questo 2020 che è stato schifoso vabbè comunque il 31 dicembre 2020 verrà rilasciato dpin 20.1 versione 10 10 che oltre a ovviamente a portare miglioramenti significativi nelle performance del sistema nell'abbio del sistema ridurre il consumo di risorse e portare una migliore esperienza utente con dpin desktop environment introdurrà anche una nuova serie di applicazioni predefinite che andranno a sostituire quelle attualmente di default i temi il team di sviluppo di dpin ha infatti deciso di sviluppare un set di applicazioni base per quando riguarda la navigazione la gestione della posta elettronica e anche altre applicazioni di sistema avremo dpin browser che andrà a sostituire firefox andremo mail che sostituirà thunder board avremo disk manager che andrà a sostituire g parted e avremo camera che andrà a sostituire cheese il team di dpin con questa mostra si allinea quindi alla diciamo così politica aziendale dei sistemi operativi proprietari che offrono un'ampia gambe di applicazioni sviluppate in casa e che sono cento per cento integrate con il sistema ovviamente qualora lo vogliate potete continuare a utilizzare su dpin il vostro browser web predefinito nulla vi vieta di istagarlo e di utilizzarlo sarà comunque interessante vedere su cosa si baserà dpin browser molto probabilmente su chromium e come verrà gestita la politica degli aggiornamenti di tutto evidentemente gli è più comodo per loro fare un qualcosa tutto in casa anziché mantenere allineate le versioni di di firefox thunderbird e quant'altro che poi tra parentesi ho visto che questa tendenza a sviluppare browser web in casa appartiene anche altre distribuzioni orientali qualche tempo fa trovare in una distribuzione della correa del sud e anche in quel caso veniva sviluppato un browser web interno ma vogliono fare queste cose non lo so se contenti loro se hanno le risorse per poterlo fare contenti loro come vi ho detto prima si stanno concentrando tutti i rilasci per la fine dell'anno e dentro la fine dell'anno durante le festività natalizie se tutto va per il verso giusto verrà rilasciato anche linux mint 20.1 che fare tante cose di questa nuova versione introdurrà input note x ormai praticamente gli sviluppatori si sono concentrati su questo software ve ne avevo parlato già negli scorsi mesi si tratta di un lettore ip tv che verrà preinstallato su linux mint dall'ultimo post di cui vi ho parlato di questo di questo software sono stati fatti diversi miglioramenti al programma il software è stato dotato di una schermata delle preferenze in cui è possibile configurare le fonti c'è il supporto mpv adesso è stata aggiunta la possibilità di gestire oltre ai canali tv anche le librerie vod per i film e le serie tv è una funzionalità poi interessante anche perché consente di di gestire anche le categorie dei film consente di gestire le serie tv per stagioni consente di andare a recuperare anche informazioni sui m database per quanto riguarda film e serie tv che andiamo a guardare e sono state c'è stata messa molto a cura in questo software ovviamente il team di lux mint ha rilasciato una beta che è possibile testare su ubuntu e derivate che trovate link su marcos box e ha fatto sapere che il sviluppo di imp.x che sembra il nome di un pokemon se vuoi che ci penso non si fermerà qui ma verrà donato al software anche il supporto ipg il supporto pvr e categorie personalizzate i preferiti e la possibilità di nascondere i contenuti inutilizzati quindi nelle prossime versioni verrà dato ancora maggiore attenzione a questo software e che direi team del linux mint si è fissato secondo me e piacerà moltissimo a qualcuno degli sviluppatori magari stesso anche il patron stesso che mente le febbre che si sono accaniti su questo software è un software in più è davvero interessante perché chi fa uso di questi tipi di software su linux era un po sprovvisto è tutto tutto grasso che corre fa bene anche le altre a tutte quante le altre distribuzioni che poi io dico grasso che corre ma sapete sono vegetariano quindi le ultime due due notizie di questa settimana riguardano l'hardware la prima notizia riguarda ma in 64 che ha annunciato il preordine del iphone kd e community edition questa edizione del pan from viene fornita con una bid di kd e plasma mobile basato su maggiore linux lo smartphone verrà spedito nella confezione personalizzata progettata dal team di plasma mobile quindi mi immagino colori messi un po così e padding alla cdc e avrà anche un logo il logo di kd e sul retro due sono le configurazioni disponibili l'edizione è quella economica da 149 dollari che comprende 2 gigabyte di ram e una memoria da 16 giga l'edizione quella pro diciamo così costerà 199 dollari ed sarà equipaggiato con 3 gb di ram e una memoria da 32 gigabyte l'edizione da 199 dollari e avrà anche un bundle chiamato pacchetto di convergenza che include una doc usb c dotata di portale ethernet due porte usb di tipo a un uscita video digitare hdmi e un'alimentazione che può essere fatta tramite una porta usb c sì carino come progetto credo come idea speriamo soltanto che non sia non sia un progetto che è destinato a morire nel breve tempo comunque per ogni unità venduta pain 64 ci fa sapere che 10 dollari verranno donati donati alla community di kd e infine ultimissima notizia di questa settimana riguarda il mondo apple ma anche il mondo linux hector marcan martin lo sviluppatore noto nel mondo linux per avere effettuato il porting di linux sulla ps4 ha deciso di cimentarsi in un nuovo progetto ovvero portare linux su apple silicon dal momento che il nuovo soc m1 rilasciato da apple è appena uscito ovviamente apple non rilascia le specifiche il lavoro di porting sarà basato tutto praticamente su reverse engineering tanti sono gli ostacoli che lo sviluppatore dovrà andare incontro uno su tutti ad esempio il driver per la gestione della gpu che è completamente personalizzato da apple ma anche altri problemi riguarderanno anche la gestione dell'alimentazione che deve comunque funzionare bene affinché la durata della batteria sia ragionevole poiché si tratta di un progetto così imponente che richiede uno sviluppo a tempo pieno hector martin ha deciso di aprire un patron che sarà utilizzato come sostegno economico per portare avanti questo progetto il suo obiettivo è quello di raggiungere una quota mensile di 4 mila dollari hector ha fatto sapere che inizierà a lavorare a porting se tutto va bene a partire da gennaio 2021 e nel frattempo qualora riesca a raggiungere prima del dovuto l'obiettivo dei 4 mila dollari ordinerà un mac mini m1 che verrà utilizzato come base per lo sviluppo di questo porting tutti quanti i progressi verranno pubblicati i regolamenti su github e tutto verrà rilasciato con una doppia licenza una gpr e una invece licenza aggiuntiva permissiva ad esempio quella della mt per garantire che il lavoro possa essere riutilizzato anche in altri sistemi operativi ove possibile speriamo speriamo che questo porting riesca e speriamo che non venga bloccato da cause legali da parte di apple ebbene comunque questa ultima notizia si conclude qui questa 87esima puntata del podcast di macrosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con il podcast di macrosbox ciao